Bentornati in un'altra metoda di Darsus 3 e come sempre stay ignorant mi raccomando e se lei dopo l'ultima side quest ci vuole dire qualcosa ossia non avrei fatto l'unione, hai la mia più gratitudine se necessitavi aiutare ai tuoi viaggi, offro il mio signo la benedizione della luna sul tuo viaggio c'è royal lona petta cos'era è riuscito dal clan un attimo e sei ancora qui volevo dirti qualcosa ah sì sì va bene va bene va bene ok ok sei divertente ci siamo messi tipo è riuscito per sbaglio sentonato memoretto mister l rimettimi capo per una settimana oggi mi ha finalmente rimesso gli ho detto bene per la tua mancanza di fede ora ti butterò fuori per così per dire di una roba ecco sì altri due allora uno è claudio bucina detto anche darti sopi e l'altro è senza undertale come se dire lui è il sole l'ho dal sole il sole un altro la luna fa schifo io arrivo guendolina solo un frocio qua si va pesa a propos ma andiamo avanti andiamo avanti dato che siamo qua all'inizio volevo già dire una cosa stavo pensando riportare battlefield 1 sul canale non come campagna ma come multiplayer non preoccupatevi sono migliorato non sono quella pippa che vedevate su call of duty si sono decisamente migliorato ora qua vedremo gli spiriti o almeno quello che rimane dei cavalieri della missione di irriti che sono andati per appunto erano li mandavano all'estero per fare la missione appunto lì c'è sentite delle grugniti e roba simile intanto lì c'è un evangelista delle profondità che sta che se ne sta rintanato ah sei ci mi hai visto e bravo ho detto massi ed ero abituato a dark souls 2 mica devo riprenderci la mano stiamo andando in crisi ma in crisi di bracci perché sto sto cazzeggiando ma non dovrei fare non dovrei cazzeggiare andiamo un po' dov'è 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 ah eccoli qua le mie anime me ne erano anche alcune 50 anime oh mio dio ossa mi sono salvato la vita guarda ah il tizio non ha che fai se c'è l'equilibrio adesso? maledetto e non ci troppa l'armatura che peccato volevo farvi una lore vieni qua vieni qua e guardalo spara le magie da lontano perché non ha le scatole di venire fin qua bello quel e quell'nicantesimo era ah si queste qua sono tipo massa oscura e viene insegnato dai diaconi delle profondità di solito si di solito dai diaconi delle profondità io le loro anime ho imparato una magia simile quindi deduco che ovviamente ovviamente la cattedrale delle profondità essendo collegata con Iritil ossia il pontefice saliva no perché il gran sacerdote saliva mi fa mi fa un po' schifo dirlo preferisco il pontefice che sono tanto meglio eh sì che è collegato con il pontefice saliva che sono entrambi seguaci di altri ma sì infatti così quindi deduco che allora eh sì il pontefice saliva gli ha dato l'adestramento militare mentre eh gli aconi è dato l'insegnamento spirituale ossia le magie come avete appunto visto qua c'è l'ennesimo spirito qua invece un oggetto interessante eee esseri in mezzi vacui non so come definire non so come definirvi questi qua mi sembrano tipo i non vorrei dire cavolate no non ho ben presente una loro su questi qui spero che mi droppino qualcosa per approfondire non mi ha visto 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 Stealth madafacca ho sentito qualcosa nei miei spazi no sono coperto di sa quasi quasi non mi ha visto non mi ha visto queste qua allora vi fa intanto intanto che arriva e faccio una spiegazione queste qua sono le streghe di retil che infatti vedete che il bastone da surprise madafacca che infatti vedete che il bastone da immolazione eh hanno il fuoco quel fuoco deriva da ma questo qua lo scopriremo più avanti spostati eh volevi maledetto sarei più maledetta nooo solo due peccato volevo fare una triple kill eh beh sveglio quanto me di mattina che non ci deriva nulla vabbè ve la dirò io allora guardalo che campera lì sopra con quel bastone no in no in vista mi raccomando non è in vista no mi raccomando e li manco tutti ok ora come faccio intanto che vi dico sì che quel fuoco e che cavolo e che cavolo e che cavolo dove stiamo a norlondo 2 che pesta bene ok ora si va bene si stavo dicendo mettiamo via altre fiaschette intanto quel fuoco che vedete è perpetuo nei loro nei loro bastoni ma quel fuoco a sua volta deriva dalla dalla fiamma profanata che le come dire che nel sì che nel momento di di maggiore di maggiore come faccio a dirlo di maggior risalto della capitale le streghe no no le sacerdotesse di di e basta fammi fare una lore tac no mi ha impalato e ora di ecco e ora divento la il pane e vin per chi per chi oh dai hop pensavo si uscidasse dicevo eh no eh no 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 finchè c'è l'equilibrio tu non mi fai nulla ok spada curva ve lo leggo dopo armatura mai mai ricevuta dicevo il fuoco dato che le le sacerdotesse di di della capitale erano sono dettati piuttosto arroganti quindi hanno provato a a copiare la fiamma la fiamma la fiamma quella da la prima fiamma sì quella che doveva amicolare ha provato a copiarla però è venuto fuori un un esperimento fallito e la fiamma ha cominciato a a distruggere la capitale piano piano e distruggendo la capitale eh però eh sì e quando come minchia si chiama quando quando coso er 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 eh sì il pontefice e quando salivano ha scoperto la capitale ci ha costruito sopra Iritil che è questa qui oh c'è costruito sopra Iritil e ha sfruttato il potere del fuoco il potere della fiamma profanata per le streghe di le streghe di Iritil che sono appunto quelle lì dopo aver preso tutto questo tempo leggiamoci finalmente la lore allora amatore delle streghe potatrici della fiamma profanata ora spiriti tormentati che vagano per Iritil le streghe capo dei cavaliere del gran sacerdote erano inizialmente cavalieri sagri non si vuole molto però prima che la fiamma profanata le divorasse i cuori infatti questa mima quella dei cuori mi mancava eh ora leggiamoci la spada spada ricorvotitata dai cavaliere del gran sacerdote spettri geliti che vagano per Iritil la lama la larga lama sembra comunque consumata dagli insetti ed è quindi leggera ma fragile si ed è quindi leggera ma fragile nel complesso avete capito tutti alla fine diventano spiriti tormentati ma io non so chi è che fa che quello lì ramo d'albero stregato wow non è questo qui boom mi sa tanto che è questo wow potenza e io ti backstabbo di nuovo ah ne hai di vita eh lo ammetto non ti servirà più ta è erosione di Doris e adesso glorifichiamoci dove sei? eccoti qua allora miracoli di Doris il missionario folle che sia questo qui Doris evoca ogni mese usciamo gli insetti che devono i nemici chi si spogge troppo sul ciglio dell'abisso rischia di esserne risocchiato Doris evo del pericolo accorse con gioia dell'oscurità e quindi questo è una è una è un miracolo oscuro sì credo che l'abbiamo capito tutti che è un miracolo oscuro ma questo deriva direttamente dall'abisso dato che Doris si è buttato nell'abisso per accogliere l'oscurità apprendendo questo qui quindi questo deve essere particolarmente efficace come 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 miracolo quanto vedete e senti Nive allora ascoltando quei versi che stava facendo molto probabilmente Doris è stato o stata non so se è maschio o femmina ma di solito gli evangelisti sono donne è stato corrotto quindi è diventato anche lui una specie di bacuo folle come sì ha perso la ragione ed è diventato un folle un bacuo folle che cerca di ammazzare tutti e tutto il primo cavaliere cavaliere della missione donna mai visto uno si voi due lì mi state aspettando ma ho preso paura ho visto uno che si avvicinava no tu chi sei non ti ho mai visto prima e infatti era uno sconosciuto qua c'è nulla qua si va dalla parte bella e di qua si va da inutile più avanti sì in effetti in effetti lo è però però vorrei esserne sicuro in effetti è proprio sicuro quindi 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 qua mi sembra un bel posticino per farci un picnic il problema è che non ce la faccio tu sei slammer sauder in parole povere farlo acceso e tu sei pa 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 mentre sono coperto di sangue fino alla faccia ma 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 dimmi tutto oh oh i thought it might be you good to see you i never managed to find horace but my duty must be done even alone as an unkindled lord seeker for the children i knew bless their souls we all have our reasons don't we ah you are brave indeed to face your duty alone i would do well to learn from you may the flames guide your way ah va bene va bene va bene grazie grazie della spiegazione eh grazie dovevo fargli questo finale sennò si arrabbiava qui c'è qualcuno di disteso prova di un successo non c'è nulla prova di un successo prova di un successo eccola qua orecchio regrenzito e dissanguato vedo qua ah un orecchio quello lì ma no dissanguato si ricordo della sconfitta di un colpevole i cavalieri notti come il lama della luna oscura puniscono i colpevoli prendendone un orecchio come ricordo mi sembra abbastanza sadica come cosa ma i cadaveri senza orecchie vengono lasciati come monito per gli altri a nifondere timore e rispetto per gli dei tale l'eterno manato del sole oscuro interessante allora vedete che prima si riferiva a oppietà per quei bambini lì molto probabilmente quei bambini lì sono eh quelli di prima sapete quelli là dove c'era la strega e c'erano sotto quelli là grigi con un auro oscuro in faccia quelli là rimbecilliti molto sono quelli lì sono quelli là che sono stati educati dal dal gran sacerdote dal pontefice salivan che sono molto meglio dal pontefice salivan per ci sono sono pazziti non va così ok sì l'episodio è piuttosto cortino rispetto agli altri più che altro perché ne vorrei far tanti suddivisi in modo che siano meno pesanti per voi e per tutti gli altri detto questo spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguirci ciao a tutti